Buongiorno, buongiorno, benvenuti a tutti quanti, sono molto felice di vedervi qua, finalmente riusciamo a concretizzare questa iniziativa che doveva essere un'iniziativa pre-pandemica, invece è diventata la prima grande iniziativa di diritto costituzionale post-pandemica. Oggi è una giornata un po' atipica, farò un mischiume di francese e italiano in modo che tutti quanti possano più o meno seguirmi. È una giornata un po' atipica perché di solito i saluti si fanno la mattina del convegno, invece noi abbiamo preferito farli oggi sostanzialmente per tre motivi. Il primo è per scaricare un po' la giornata di venerdì perché sennò sarebbe stata troppo intensa. Il secondo è che in tutti i grandi convegni c'è sempre quel momento, la serie prima, in cui i partecipanti e i relatori arrivano nella città che ospita il convegno e di solito si incontrano e diciamo l'abbiamo un po' voluto istituzionalizzare creando questo momento di saluti e di aperitivo che sarà offerto a tutti i partecipanti. E ovviamente poi era un'occasione che era stata pensata anche inizialmente come quasi tutti voi sapete con l'idea che i saluti sarebbero fatti a Palazzo Frennese quindi era anche come dire un pretesto è vero per visitare quella sede per motivi che tutti quanti immaginate non è più possibile farlo a Palazzo Frennese ma Roma 3 insomma ci ha dato ospitalità e quindi sono davvero molto contento di vedervi qui oggi. Altri arriveranno poi nei prossimi minuti, altri arriveranno domani, abbiamo una delegazione congolese che probabilmente ha avuto un ritardo aereo e quindi ha lasciato qualche posto riservato vuoto ma insomma sono fiducioso che arriveranno. Dunque, passo alla francese. Ci provo. L'idea a l'origine di questo colloquio è di celebrare di una forma a la fois solennale e originale l'anniversario dei 10 anni della commissione dell'agione di ricerca constitucionale dell'associazione francese di droga constitucionale. In realtà le 10 anni hanno stato fatto in 2020, ma a causa della pandemia non è stato possibile di celebrare la buona anno. Ma è per questa ragione che il colloquio s'appelle Roma 2020 anche se, a la riguardo, è stato in 2021. La commission dell'agente di ricerca constitucionale, poi la Presidente va vi raccontare un po' meglio cosa è che c'è, però in realtà, la Commission di ricerca è stata stata creata nel senso dell'associazione francese di droga constitucionale, per riferi dei dottoranti e dei doktori che non sono ancora in posto. Inoltre, la Commission ha una vocazione a associer gli giorni di ricerca, membri dell'associazione. Durante 2011, la Commission organizzata di ricerca è una giornata di ricerca di ricerca, non parisiana, che ha fatto in l'università di ricerca, membri dell'associazione portare del progetto. Per riferi le 10 anni, una giornata che non sembrava sufficiente. Quindi abbiamo organizzato un colloquio in 3 giorni. Un colloquio che d'ailleurs non sembrava non solo décentralizzato, ma anche hyper décentralizzato in la ville èterna. Ma perché abbiamo chiesto Roma? Per due ragioni. La prima, molto semplice, il porto del progetto è io. E io sono Romano. L'università di Rontroi, d'ailleurs, ha sempre avuto una vocazione internazionale. C'è un'università che poteva bene accueillare il nostro progetto. E io ringrazio quindi tutto d'abord il presidente dell'università e il nostro magnifico rettore Luca Pietro Marchi, il doyano della Facoltà di Droit Giovanni Sergio, c'è anche il doyano della Facoltà di Scienze della Formazione, Massimiliano Ferrucci, che ci ha aiutato a un livello finanziato per l'organizzazione del colloquio e che, che non può essere qui oggi a causa di un'imprimio. La seconda ragione, più importante, nel 2020, abbiamo chiesto non solo i primi 10 anni della Commission, ma anche i primi 10 anni della QPC in Francia. Ora la QPC è molto inspirata dal controllo incidente italiano operato dalla Commissione. E Rontro, c'è stata la ville idéale per per célébrare questo double anniversario dei 10 anni della Commission e della QPC. C'è per questa ragione, d'ailleurs, che abbiamo chiesto e ottenuto che la ultima giornata si fasse al Palazzo della Consulta, al siège dell'accordo costituzionale italiana. Ciò che ringrazio il presidente dell'accordo costituzionale Giancarlo Coraggio, il prof. Modugno che si è stato portato di nostro progetto in fronte dell'accordo costituzionale, il prof. Zannone che ha accettato di presidere la giornata dell'accordo costituzionale, ma anche tutti gli giusti costituzionale che sono presenti a l'intégralità o a certi giorni del colloquio Giovanni Amoroso, Dario De Pettis, Stefano Petitti, Giulio Prosperetti, Maria Rosaria San Giorgio e Francesco Viganò. Certi d'entre loro sono già presenti oggi e quindi io le ringrazio due volte. A l'organizzazione di questo colloquio ci sono poi associati, e noi siamo ben contenti e honorati, il CRISPEL Giorgio Rechia di Rom 3, il centro di ricerca dirigato dal prof. Colapietro che ringrazio, il CDPC Jean-Claude Escaraz, il centro di ricerca dell'Università di Toulon, dirigato da Thierry Di Mano e madame Baudrez che ringrazio. E l'associazione d'etudi su le droit e la justice constitutionnelle gruppo di Pisa, che ringrazio, che ringrazio, che ringrazio, e ringrazio, che ringrazio, di rossi l'associazione italiana dei constitutionalisti, che ringrazio, che ringrazio per il centro di ricerca. Ringrazio, 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 l'associazione italiana dei droit constitutionnel di RIVAD, che ringrazio per il vicepresidente Blaschè, che ringrazio ma anche l'ancien presidente del gruppo di Pisa parlo Carnaval che ha stato il presidente che ha appruvato a l'epoca il nostro progetto di colloquio e anche io ti voglio ringerciare ovviamente Gohar Galussien, presidente della Commission Julien Vaché, vicepresidente della Commission e permettevamo anche Emiliano Quinnard e Julien Padovani che hanno stato il presidente e vicepresidente della Commission con cui abbiamo creato tutti i collochi e che ci sono molto quindi grazie veramente e il progetto ha anche beneficiato di un finanziamento della parte dell'Università franco-italiana e di una labellizzazione della parte dell'ambassazione della Francia in Italia che io ringerciare c'è un'altra cosa che tiensi a a surligno e i giorni di l'associazione gruppo di Pisa hanno cominciato a lavorare a l'organizzazione di questo colloquio hanno potuto vedere come la Commissione della Commissione di Recherche Constitutionale e hanno deciso, con la collaborazione della Presidente D'Amico, di creare un'equivalente della Commissione all'associazione gruppo di Pisa e quindi questo colloquio che deve essere il colloquio dei 10 anni per le 10 anni della Commission non è più solo il colloquio per le 10 anni della Commission ma è anche il primo colloquio della Commissione della Recherche italiana c'è una coincidenza che io trovo formidabile e io trovo molto significativo molto symbolico e molto bene che il primo colloquio di Dio Costituzione post-pandemica sia co-organizzata da due Commissione di Giants-Checherche da un punto di vista symbolico io trovo che c'è molto bene e e ben voilà io ho detto tutto ciò che devo dire io ne voglio non veloci troppo tanto perché in più il y a beaucoup di gente che deve parlare e io sono il meno importante io ringrazio tutti tutti questi qui sono qui sono qui sono qui parlano nei prossimi giorni anche tutti questi che ci sono qui seguono in licenza per essere là e io passo la parola alla buonasera a tutti grazie grazie io sono qui soltanto per dare il mio benvenuto a tutti voi a Roma 3 siamo nell'aula magna del Dipartimento di Giurisprudenza Dipartimento di Eccellenza di Roma 3 diretto dal Professor Giovanni Serges alla mia destra è un'occasione bellissima io di mestiere sono francesista insegno letteratura francese dunque non potrei che rallegrarmi non posso che rallegrarmi vivamente per questa straordinaria occasione cioè proprio io come dire lavoro sullo scambio normalmente letterario tra la tradizione letteraria italiana e quella francese ecco il massimo compiacimento che vedo che anche sul binario sul fronte dello scambio del dialogo tra i diritti il dibattito è altrettanto vivace lo scambio così attivo e soprattutto che abbia a Roma 3 il suo grande crocevia di questo veramente voglio ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a questa magnifica occasione proprio lo scambio dunque il mio saluto a tutti coloro che hanno organizzato questa giornata a tutti i membri della commissione della jeune recherche constitutionnelle bellissimo anche come diceva il dottor Serges che è un nostro dunque un nostro assegnista di ricerca dunque un francesista giuridico avete sentito il suo ottimo francese molto bene e di questo anche non mi posso che compiacere bello il fatto che noi tradizionalmente cioè diritti comparati insomma tra la Francia d'Italia i due grandi luoghi comuni sono quello che noi abbiamo dato alla Francia come dire il codice il diritto romano la Francia però si è rifatta alla grande con il codice civile bello che invece tutta questa prospettiva sia rovesciata in questo decennale dove se ho ben capito invece celebriamo l'adozione da parte francese di una norma costituzionale che è stata forgiata dai nostri padri costituzionali appunto quella del giudizio di legittimità in via incidentale e questo vuol dire come dire bene un dialogo perfettamente perfettamente attivo ulteriore motivo di soddisfazione è che qui a Roma 3 siamo il dipartimento di giurisprudenza è particolarmente attivo in quella che è la diffusione del verbo costituzionale diciamo così e ringrazio della loro presenza tutti i giudici della Corte che ci onorano della loro presenza noi qui abbiamo di solito questa aula una due tre volte all'anno è gremita di liceali che vengono assistere a quella ciclo di lezioni che abbiamo intitolato sotto il coordinamento del professor Marco Ruottolo la costituzione aperta a tutti invito tutti a leggere online sul sito della nostra Roma 3 press free access tutti i testi la raccolta di tutti questi interventi abbiamo scelto di abbiamo individuato nella costituzione dei lemmi di particolare rilevanza e questi lemmi li abbiamo affidati a degli specialisti a degli insegni giuristi a dei grandi professori affinché sviluppassero il senso di alcune parole dinanzi a questa eccezionale platea di studenti liceali che portiamo qui a Roma 3 proprio a difesa e illustrazione della costituzione italiana questo è però sto mutuando sto parafrasando il famoso titolo di un saggio di un libro del 500 di Dubelet che si chiama Défense et illustration de la langue française qui invece c'è la difesa e l'illustrazione della costituzione italiana inutile dire che la prima la prima lezione abbiamo scelto la parola rispetto e l'abbiamo affidata all'allora professoressa Marta Cartabbia dunque tutto torna perfettamente la ministra oggi non è qui però ci ha mandato come dire una sua illustre sostituta la dottoressa Tanzarella che ringrazio della sua presenza chiedendole veramente di trasmettere il nostro saluto più cordiale affettuoso alla ministra io dunque con questo vi ringrazio ringrazio tutti ringrazio Giuliano Serges e dunque come dire a chi do la parola alla dottoressa Tanzarella prego grazie grazie rettore e grazie a tutti e sono davvero onorata ed emozionata di rappresentare la professoressa Marta Cartabbia oggi ministra della giustizia mi ha chiesto di portare i suoi saluti in questo parterre che raccoglie tanti maestri per me di diritto costituzionale è davvero un privilegio è un ringraziamento particolare da Giuliano Serges per questa impeccabile organizzazione per aver accolto con entusiasmo la sostituzione di Marta Cartabbia la ministra con davvero tanto rammarico ha dovuto rinunciare a prendere parte a questo incontro perché gli impegni istituzionali naturalmente la impegnano intensamente forse ancora era in corso un consiglio di ministri molto importanti e in veste di sua segretaria particolare la seguo tutti i giorni e so insomma quanto il lavoro sia davvero incessante e sarebbe stata certamente una bella occasione per lei per confrontarsi in presenza con tanti colleghi che forse non rivede da tempo con cui ha avuto ultimamente una collaborazione solo da remoto per ovvi motivi la pandemia ci ha costretti a separarci e così come sarebbe stata una bella occasione di confronto su un tema che le sta particolarmente a cuore qual è il dialogo tra le dottrine quando mi sono confrontata con lei per capire insomma come impostare questo indirizzo di saluto solo soffermandosi alla lettura del titolo dell'incontro le sono immediatamente venuti in mente gli anni dei suoi inizi quando da giovane ricercatrice frequentava lo dicevo prima la professoressa D'Amico i corsi sulla giustizia costituzionale ad Ex-San Provanza e mi ha proprio detto eravamo lì con Marilisa D'Amico Nicolo Zanon erano gli anni e per lei fruttuosi non soltanto diciamo perché grazie anche a quei corsi è potuta crescere scientificamente e accademicamente però erano da giovane ricercatrice allora per questo che è accettato poi di buon grado mi dicevo di presiedere il comitato scientifico della Jean-Régère Costituzione scusate non sono assolutamente francosa mi perdono però mi diceva sempre la professoressa Cartabia che sono stati anni proficui anche proprio perché in quel periodo si cominciava seriamente a fare prove di dialogo tra le dottrine pur limitate allora al fronte italo-francese e da quel momento però ci si è incamminati sulla strada della circolazione dei modelli costituzionali e che ha portato a tanti risultati e che li vediamo insomma sono sotto gli occhi di tutti nei nostri giorni trovo meritevole la scelta di impostare i lavori di questo convegno avendo cura di guardare al passato per ricordare com'era il dialogo tra le dottrine ieri e di guardare al presente e capire com'è oggi perché solo a partire da qui potremmo forse chiederci se in futuro ci sarà un'unità tra i modelli costituzionali un viaggio nel tempo che tocca i più grandi temi del costituzionalismo leggo insomma i titoli poi delle relazioni dalla democrazia rappresentativa al sistema delle fonti alla giustizia costituzionale avendo tutti sullo sfondo inevitabilmente la tutela dei diritti fondamentali ed è questo mio modesto avviso è il grande snodo cioè il diritto costituzionale dirò cose banali ha assunto una nuova veste non appena si è passati dalla stagione della generalizzazione dei diritti a quello della loro universalizzazione cioè quando si è passati dall'allargamento del suffragio all'estensione e l'intreccio della tutela dei diritti attraverso quello che oggi chiamiamo tutela multilivello quindi da quella costituzionale a quella internazionale soprattutto per noi quella sovranazionale un passaggio che ha portato il diritto costituzionale lo insegna anche il professor Zagrebelsky dell'essere considerato una disciplina prettamente domestica per assumere via via una spiccata diciamo tendenza vocazione internazionalistica e i risultati ripeto sono sotto gli occhi di tutti ciascun sistema costituzionale si è lasciato contaminare dagli altri però preservando al contempo i principi cardine che derivano comunque dalla propria tradizione e il raffronto Italia-Francia è sintomatico di questo soprattutto in relazione al sistema della giustizia costituzionale ne faceva Cennio prima il Rettore quindi affinare il dialogo tra le dottrine sicuramente non porterà io credo ad un'unità tra i modelli e forse nemmeno ad una unità trasfrontaliera come ci si chiederà nella tavola rotonda però il lento processo dell'integrazione europea ce lo dimostra ma certamente continuare a coltivare questo dialogo contribuirà a rendere più forte il patrimonio comune del costituzionalismo che come sempre ricordiamo agli studenti del primo anno è amico dei diritti fondamentali ed è nemico dell'abuso di potere e solo tentando tenendo fermi questi due aghi dell'abusola forse si riuscirà a tenere un po' la giusta direzione verso il compimento pieno del costituzionalismo in ordinamenti democratici ancora acerbi o che dimostrano al momento segnali insomma di inversioni di rotta le prossime due giornate di lavoro saranno sapranno mettere in luce sapientemente tutti questi temi tutte queste sfide che come costituzionalisti ci attendono e quindi auguro a tutti buon lavoro rinnovando i saluti da parte della Ministra Grazie 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 due parole anche da parte mia due parole con le quali intendo in primo luogo portare i saluti di tutti dell'intero Dipartimento di Giurisprudenza e dunque di tutti i colleghi che ancora per due giorni rappresento perché sono alla fine del mio mandato che è stato un mandato impegnativo ho durato sei anni di grandi soddisfazioni ma anche di grande impegno e specie nel periodo difficile del lockdown e mi piace davvero che la ripresa dell'attività convennistica di ampio respiro si svolga con un convegno di diritto costituzionale e che si svolga qui nell'Aula Magna da poco tra l'altro divenuta Aula Magna del Dipartimento di Giurisprudenza perché con l'inaugurazione del nuovo rettorato per magnifico edificio magnifico a mio modo di vedere che si vede sulla via Ostiense a un paio di cento metri da qui nel quale al nono piano risiede nell'atmosfera rarefatta dal nono piano risiede il nostro rettore e siamo diventati come dire proprietari tra virgolette dell'Aula Magna di questo altrettanto edificio molto bello al quale ormai siamo davvero affezionati ecco e questa è davvero una bella occasione e l'altra è un'occasione da ricordare perché si incontrano nella organizzazione le due organizzazioni giovanili dei costituzionalisti il gruppo di Pisa che in Italia è nato in realtà come organizzazione degli allora giovani costituzionalisti ma che ha mantenuto in questo senso non ha mai confuso la sua dimensione e la sua missione con quella della più tradizionale associazione italiana dei costituzionalisti e quindi questo tocco come dire più informale seminari più agili ma riflessioni altrettanto intense e continue come quelle che si svolgono in altra sede hanno caratterizzato e da ultimo sotto la presidenza della collega Marilisa D'Amico con molto dinamismo hanno caratterizzato questa attività alla quale va il merito di avere appunto portato a compimento la realizzazione all'interno del gruppo dei giovani costituzionalisti che così come dire è un primo elemento di una unità trasfrontaliera tra dottrine lo ritroviamo proprio in questo in questo collegamento tra questi due soggetti e naturalmente ringrazio il mio rettore che ci ha dato davvero un grande sostegno perché l'organizzazione di questo convegno risale a quasi due anni addietro e i rapporti con l'ambasciata di Francia e con l'ambasciatore Massé che è un suo buon amico li ha tenuti lui sono rapporti molto stretti cordiali e davvero se non ci fosse stata la coincidenza del G20 e quindi della presenza del presidente francese ma probabilmente non saremmo qui ma saremmo oggi pomeriggio a Palazzo Farnese però devo davvero al rettore Pietro Marchi un impegno affettuoso nei confronti di questa iniziativa fin dal momento in cui gliel'abbiamo presentato e naturalmente il mio ringraziamento a tutti gli ospiti che vengono dall'Italia dalla Francia ai giudici costituzionali che ci fanno oggi l'onore della loro presenza e a quelli che verranno domani anche loro hanno dimostrato come dire un affetto e una sensibilità nei confronti di una iniziativa che è ripeto un'iniziativa di giovani ma che vuole coinvolgere ecco la prospettiva è quella della dottrina il punto di vista prescelto è quello del dialogo tra le dottrine nella prospettiva di una possibile quanto difficile come diceva Palmina Tanzarella unità del diritto costituzionale e però è una prospettiva un punto di vista diciamo un modo un metodo anche con il quale avvicinarsi alle tematiche quale può essere dunque il significato di questa impostazione ci troviamo di fronte a due ordinamenti diversi per forma di governo per sistemi di produzione intendo per produzione del diritto ma anche caratterizzati da molti punti di contatto si pensi al sistema delle fonti che è vero che è molto diversificato ma che almeno dal punto di vista formale ha ancora al centro la loi in Francia e la legge in Italia certo noi invidiamo molto ad esempio alcune articolazioni del sistema francese si pensi alle tante volte nelle quali i costituzionalisti italiani hanno riflettuto sulla possibile introduzione anche in Italia della loi organique ma non ci siamo mai riusciti ecco la volontà politica che impone una riforma costituzionale non è mai abbiamo preso altre strade di riforme tentate e poi abbottite ma quella di incidere sul sistema delle fonti si è ahimè arenata da tempo i sistemi si differenziano fortemente ma hanno dunque molti punti di contatto si pensi ancora alla giustizia costituzionale ma questo l'abbiamo ricordato lo hanno ricordato sia la Tanzarella che il rettore e l'introduzione della questione prioritaria di costituzionalità ha avvicinato significativamente i sistemi due sistemi che erano davvero molto lontani quello francese era un esempio unico di controllo preventivo di costituzionalità oggi si è trasformato in una cosa davvero molto diversa allora su questi due fronti il dialogo parte dal presupposto che appunto non è solo ovviamente una vicinanza geografica ma è un punto di partenza verso la ricerca di punti di contatto di affinità di schemi e criteri ordinatori dal cui confronto possono scaturire elementi per una reciproca e profigua interazione integrazione e interpretazione anche dei due ordinamenti ma se è vero che la finalità è quella di mettere in campo in prima battuta un incontro e un confronto tra studiosi che hanno come oggetto del loro studio in primo luogo il proprio ordinamento nazionale è anche vero che un simile dialogo non può che inevitabilmente coinvolgere le posizioni che caratterizzano pur nella varietà di diversificazione le posizioni della dottrina con riguardo al diritto sovranazionale europeo è già stato ricordato questo punto ma è in quel campo che sia con riguardo al sistema delle fonti sia con riguardo alla giustizia costituzionale esso può diventare un terreno prezioso per individuare lo sviluppo delle coordinate teoriche comuni i punti di differenziazione le soluzioni pratiche le loro possibili ricadute sul piano degli apporti anche della giurisprudenza e questo in un momento ne parlavamo poc'anzi con Jean-Philippe Delosier in un momento difficile in cui scricchiola l'edificio europeo la questione della Polonia non è una questione non è solo una questione politica è anche una questione dal punto di vista dell'ordinamento europeo molto difficile perché coinvolge l'autonomia e l'indipendenza della magistratura in primo luogo coinvolge la separazione dei poteri e come dire la corte costituzionale diluita nel potere esecutivo dalla quale poi consegue quella bizzarra decisione e coinvolge da ultimo il problema della tematica della resistenza del diritto interno rispetto al diritto sovranazionale insomma il dialogo tra sistemi tra due sistemi vicini e in qualche modo fratelli sia per le comuni lontane origini romanistiche ma anche per le soluzioni ordinamentali che in alcuni casi coincidono davvero può essere di grande aiuto ed è tanto più apprezzabile quanto più questa sollecitazione proviene da chi si sta formando più o meno avanti negli studi ma da chi guarda con la passione giovanile agli studi del diritto costituzionale buon lavoro a tutti grazie grazie dunque io riprendo la parola intanto per ringraziare nuovamente questa volta in italiano i tre che siedono alla mia sinistra e quindi parto dalla più lontana la professoressa Palmina Tandarella che rappresenta oltre che la presidente del comitato scientifico ma anche la nostra ministra della giustizia il professor Luca Pietro Marchi che come è stato già ricordato ha fatto davvero molto per questo convegno e quindi gli sono praticamente grato anche di essere qui oggi insomma e vabbè però intanto Ubi Maior minorcezza esattamente e ovviamente il dipartimento di giurisprudenza dunque a questo punto visto che chiaramente anche ma non solo per motivi covid non possiamo stare tutti insieme al tavolo farei un cambio e quindi chiamerei sul tavolo i rappresentanti degli enti associativi vale a dire Marilise D'Amico il professor Blachet Gohar Galussian e Julien Vachet dunque non esiste un protocollo che ci dica se deve parlare prima il presidente dell'associazione francese o quello dell'associazione italiana ma io come dire per dovere di ospitalità comincerei dal professor Blachet merci beaucoup merci chers collègues merci a tous alors j'ai beaucoup de plaisir a representer dans cette manifestation l'associazione française de droits constitutionnels d'abord en premier lieu je tiens à remercier les organisateurs de cette journée pour leur accueil je tiens à féliciter la jeune recherche française et la jeune recherche italienne et je tiens également à présenter à la fois les excuses les regrets mais également les félicitations de la présidente de l'association française de droits constitutionnels anne levade qui n'a pu aujourd'hui se déplacer mais qui est avec nous et qui par mon intermédiaire exprime à la fois toute sa gratitude à l'égard de la jeune recherche française et toutes les félicitations également pour le lancement de la jeune recherche italienne alors c'est un anniversaire dix ans dix ans dans une vie d'homme ce n'est pas tout à fait l'âge de la maturité mais pour une société savante dix ans c'est déjà le signe et le gage du sérieux de la continuité et finalement d'un enracinement dans le paysage institutionnel et académique durant les dix ans d'existence de la commission jeune recherche le droit constitutionnel s'est véritablement transformé et ces transformations elles ne concernent pas que la QPC elles ne concernent pas que la dimension institutionnelle de notre discipline en France par exemple nous avons connu une refonte totale de la procédure législative un aménagement des techniques de contrôle du parlement mais nous avons également connu de grandes réformes comme par exemple la moralisation de la vie politique qui a donné lieu à deux grandes lois une loi de 2013 une loi de 2017 et à la naissance d'une institution qui jusqu'à présent n'avait aucune existence en droit français la haute autorité pour la transparence de la vie publique institution qui est devenue aujourd'hui incontournable non seulement pour faire respecter la déontologie politique mais également institution qui se prononce au moment où les membres du gouvernement sont pressentis pour rentrer au gouvernement la haute autorité opérant un contrôle à la fois de la situation fiscale mais également de la déclaration d'intérêt de chaque personnalité pressentie c'est donc une évolution du droit constitutionnel qui touche l'ensemble du fonctionnement des institutions mais c'est aussi et depuis peu une évolution du droit constitutionnel inquiétante avec les réformes et les lois votées sous état d'urgence des atteintes inédites jusqu'alors à des libertés publiques et un fonctionnement d'urgence qui justifie des dispositifs qui jusqu'alors étaient totalement inadmissibles en droit constitutionnel ces transformations du droit constitutionnel ont conduit aussi à une transformation de la recherche sur le droit constitutionnel c'est-à-dire du discours qui analyse les mutations du droit positif depuis quelques années et je crois que Jean-Philippe de Rosier fera une intervention sur ce sujet le numérique les réseaux sociaux permettent d'analyser autrement la discipline est-ce une bonne chose sans doute toute personne désormais peut s'approprier la matière constitutionnelle en créant un blog en publiant en ligne très rapidement ces articles il y a là sans doute un progrès mais en même temps une discipline qui travaille essentiellement dans l'instantané qui s'intéresse à des sujets d'actualité qui ne se questionne plus sur ces fondements n'est-elle pas en crise ? Est-ce que les réseaux sociaux n'ont pas apporté une sorte de déstabilisation du droit constitutionnel en tant que discipline académique ? Alors je ne vais pas être pessimiste parce que nous sommes là pour fêter un anniversaire mais la jeune recherche depuis dix ans a tenu toute sa place dans le paysage institutionnel en droit constitutionnel et l'association française de droit constitutionnel tient particulièrement à souligner la régularité des manifestations organisées par la jeune recherche deux fois par an deux fois par an cette jeune recherche met en place dans une ville parisienne ou de province comme vous l'avez rappelé une manifestation une manifestation à laquelle les jeunes et les moins jeunes prennent toute leur place et je crois qu'il y a là une philosophie une logique à laquelle le doyen Louis Favoreux tenait beaucoup lorsqu'il avait mis en place l'association française de droit constitutionnel l'intégration des jeunes doctorants et des jeunes docteurs dans le fonctionnement même de la doctrine universitaire dans cette matière lors des congrès que nous organisons tous les trois ans le prochain congrès aura lieu à Toulon sous la haute autorité et le haut patronage du doyen et de Maryse Baudreise doyen d'Imano et de Maryse Baudreise lors de ces manifestations la jeune doctrine a toute sa place puisque ce sont des ateliers où des jeunes parlent s'expriment sur des thématiques sous le regard bienveillant des professeurs et des membres de la doctrine alors j'appartiens à une université où nous venons de célébrer à Lyon le centenaire de l'institut de droit comparé Edouard Lambert croyait beaucoup dans le dialogue dans le dialogue entre les peuples Edouard Lambert estimait que le droit comparé avait cette vertu de permettre un avenir plus pacifique plus pacifié de mutualiser des solutions et d'une certaine manière de permettre à des juristes français italiens mais aussi égyptiens puisqu'il a beaucoup travaillé avec l'Egypte de se rencontrer de partager ensemble des moments de convivialité et des moments académiques je crois que votre journée d'études est également un hommage à Edouard Lambert je vous remercie merci merci à Edouard Lambert 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 évidemment l'aspect anagrafico non non però è un'associazione che si è concentrata molto inizialmente sugli studi rispetto sulla giustizia costituzionale da cui anche il legame molto forte anche appunto con il mondo francese che c'è sempre stato fin dalle origini poi dirò qualcosa e con tutta una serie di appuntamenti ben definiti e una serie di se vogliamo rituali fra virgolette lasciatemi ripassare molto particolari e nel momento in cui mi sono trovata appunto a presiederlo e avevamo sul tavolo questa proposta così innovativa così sfidante la mia preoccupazione fosse siccome la proposta mi è subito piaciuta la mia preoccupazione è stata però inizialmente quella di dire vediamo come possiamo arrivare come associazione a fare in modo che sia una proposta condivisa cioè che non sia una proposta in qualche modo che spacca perché come come si sono posti questi giovani costituzionalisti che oggi appunto sono riusciti poi a fare questo incontro così bello e che lavorano proprio come DNA nello scambio appunto con non solo con il diciamo con il mondo francese ma diciamo con il mondo fuori dall'Italia quindi nello scambio nel confronto con ordinamenti quindi una dimensione sovranazionale internazionale che la nostra associazione come associazione diciamo era invece nella nostra associazione questa cosa era meno evidente come si sono posti si sono posti diciamo sfidando un po' noi a creare un comitato che non fosse un comitato tanto ma che un comitato che si metteva a servizio per fare cose insieme a noi ma diverse e a me questa impostazione è piaciuta moltissimo però è piaciuta tantissimo all'associazione per cui noi siamo riusciti a ottenere dopo due anni adesso vi racconto anche altre due o tre cose una modifica di statuto che comunque è stata una modifica importante in cui ringrazio appunto in particolare Giuliano Serges insieme ad Antonello Localzo Leonardo Paci Cecilia Siccardi e la nostra Federica Grandi che fa parte del direttivo che è la giovane diciamo del direttivo del gruppo di Pisa la più giovane che ha lavorato con loro per ottenere questa importante trasformazione ora a me piace l'idea che un'associazione che è un'associazione che appunto promuove il dibattito interno ai costituzionalisti insieme ovviamente parallelamente fa cose parzialmente ma anche molto simili in alcuni aspetti all'associazione tradizionale dei costituzionalisti che questa associazione poi si sia in qualche modo rinnovata dall'interno e come l'abbiamo rinnovata proprio lasciando che i giovani che loro organizzassero un seminario di diritto comparato che viene diciamo fatto prima del nostro convegno annuale quindi che sviluppassero questa dimensione appunto di dialogo di dialogo appunto con gli altri paesi di dialogo fra discipline a me sembra molto importante però che il primo evento sia un evento di questo tipo intanto perché c'è un legame profondo il comitato italiano nasce sulla in qualche modo sul fatto diciamo come modello appunto la commissione della regione di recherche costituzionale quindi questo è molto importante ma è molto importante anche perché sottolinea un aspetto che c'è stato davvero e che c'è ancora moltissimo studia in particolare la giustizia costituzionale perché la professione di intervento molto bello che purtroppo non ha potuto tenere la nostra ministra della giustizia è prima presidente della corte costituzionale nonché carissima collega effettivamente 30 anni fa negli nostri studi sulla giustizia costituzionale c'era un gruppo di giovani vedo anche il professor Grosso professor Zanon che si insieme appunto ai colleghi francesi che ringrazio tantissimo di essere vedo qui si formava e ci formavamo in che modo noi giovani guardavamo una dottrina francese che era molto spaccata a mio avviso almeno da come lo percepivo io fra la maggior parte dei costituzionalisti che erano studiosi delle istituzioni politiche e il gruppo delegato al professor scarras che stava dialogando con tutta Europa e in particolare con l'Italia nel pensare e nel progettare un sistema di giustizia costituzionale che non c'era ancora per cui noi in qualche modo eravamo visti un po' come modello ma nello stesso tempo apprendevamo moltissimo anche da quella osservando poi anche la dottrina e ricordo ancora molto bene alcuni insegnamenti anche del professor Favoreux che poi coincidevano molto con alcuni professori con cui io dialogavo italiani come per esempio il professor Bognetti i quali davano anche e giustamente sottolineavano l'importanza di uno scambio anche di persona cioè era fondamentale per il professor Favoreux l'aver appreso qualche cosa in un colloqu in un colloqu e ricordo che appunto nei giovani anche il professor Zagrebelsky spesso appunto ci domandavamo ma cosa vuol dire apprendere nel colloqu esattamente questo cioè scambiarsi e cercare di ragionare su quello che è il diritto che è la dottrina vivente da uno scambio e da un rapporto reciproco l'ultima cosa che diciamo l'ultima osservazione che faccio mi sembra anche importante sottolineare oggi e sono felice di farla in un'aula magna che anche a me è molto cara l'aula magna di Roma 3 dove abbiamo fatto tanti nostri appuntamenti fondamentali nonché da ultimo il seminario dei dottorandi il primo evento in presenza del gruppo di Pisa il mese scorso che questo è anche un momento particolare un momento particolare anche per interrogarci sugli ieri su quello che eravamo ma soprattutto per pensare come si farà nella giornata di domani in quella di sabato alle sfide del futuro perché perché la pandemia giustamente come ha sottolineato il professor Blaschesi ho capito benissimo il suo intervento il mio francese è medio quindi può darsi che non abbia sottolineato non abbia compreso tutto ma insomma mi sembra di aver capito che ed è un punto su cui anche noi siamo sarà molto importante anche il confronto la pandemia ha messo veramente a dura prova alcuni principi di fondo dello Stato costituzionale ma forse ha fatto emergere anche una trasformazione o una crisi profonda che c'era già e quindi noi dobbiamo interrogarci dobbiamo interrogarci su tutti questi aspetti e lo faremo lo faremo appunto nella giornata di domani quindi grazie ancora e benvenuti a tutti da parte appunto della nostra associazione grazie a te presidente vorrei dire che ti ho trovato in imbarazzo quando cercavi di trovare il verbo giusto per dire in che modo il nostro comitato si era ispirato alla loro commissione io vorrei citare quella famosa frase attribuita solitamente a Pablo Picasso non so poi se sia vero che il mediocre imita e il genio copia e noi modestamente abbiamo copiato e quindi a questo punto passo la parola all'altra presidente che c'è in questo tavolo Govaga Luiziano grazie molto chiamo Giuliano chiamo professori chiamo collega la commissione della jeune recherche en droit constitucionale è anche ravi conorata di organizzare la giornata annale d'etudes a Roma in qualche modo la commissione della jeune recherche en droit constitucionale è la composante junior di l'associazione francese en droit constitucionale che cerca di facilità il contacto tra le jeune cherche e di contribuire a nostra modesta échelle al sviluppo di la materia che ci sia che il droit constitucionale a travers l'organizzazione di due di Il secondo è l'automno, l'automno, che si chiama la giornata di studi di centralizzazione, perché è stata sistematica in parte di pari. E' è ovviamente con il grande gusto che questo evento se si tratta questa anno su molte giorni per diventare un colloquio e che ciò che ciò che è anche molto a di pari. E io ti voglio di ringerciare l'Università Ramp3 e la Corte Costituzione italiana di noi accueillire a questa occasione e di noi permettere di organizzare questa giornata in la capitale italiana. Questo evento è particolare e singolare per noi, tutto d'abord perché il si prepara per quasi tre anni, perché questa tenuta è stata messa in questione a molte volte, la situazione sanitaria ciò che è stata in un'incertezza completa fino a poco, ma anche e soprattutto perché è un evento che ciò che ciò che permette di marcare le 10 anni della Commission della Giunta di Recherche in Drogio Costituzione e io penso che noi avremmo più difficilemmo immaginare un anniversario più organizzato. E questo non è un'ottima, perché l'on sape che l'organizzazione è stata tra le buone mani di Giuliano Sergesse, e anche se noi abbiamo più, i nostri amici, Emiliano Quinar e Giuliano Padovani, ma anche Giuliano Padovani va chiedere e aiutere e sottolineare. Il faut dire che Giuliano ha indossato la lourde responsabilità scientifica, administrative e direttamente morale di questo colloquio. E io ne posso che t'en ringerciare molto e sinceramente e grazie a te. C'è grazie a te che abbiamo potuto con i colleghi italiani e particolare il gruppo di Pise, che ha ben voluto noi seguire e ci sottolineare in questo progetto, per cui io le presento anche le ringerciamento le più sincere. Questa collaborazione ci ha rappelato che noi ci siamo rinuncati di schienze scientifici mutui e ci ha rappelato l'importanza per il giurista di s'intéressare a ciò che si dice sulle questione juridiche in dehorsi del caso nazionale e di comparare con ciò che si sta succede ailleurs. C'è la ragione per la quale ci siamo invitati o di me ha proposito di dialogare e c'è bene il dialogo dei dottrini constituzionale che noi rispostiamo nel cadre di questo colloquio. Ci ringraziamo l'ensemble dei partecipanti, franzai e italiani, che hanno acceptato la nostra invita a questo dialogo. Il dialogo che non ne comprensiamo come una semplice in evidenza delle divergenze e delle convergenze di un Stato a un altro, ma quello che noi pensiamo come un modo di modellizzazione in modo di permettere di riflettere insieme su delle problematiche che i nostri nazionale rispettivi traversi e se domandere se una soluzione universella o di meno transposabile au-delà dei frontiere etatiche può essere envisagata e anche, nel caso è chiaro, di essicciare le conto. Ci ha detto che l'edizione della Commission conoscente con l'edizione della QPC e, ovviamente, questo colloquio non può passare a cotto della questione del controllo che le nostri giudizioni constituzionali exerce, respectivemente. Ma non è il solo sede. Se avete visto in questo programma, abbiamo potuto mobilizzare la notion ricurante di crisi per parlare di la richiesta delle norme o della rappresentatività parlementa. Noi non l'avamo più avuto in l'intenzione alarmistica o pessimistica, ma noi voulavamo solo interroger la possibilità di envisagare le notions classiche del controllo constitucionale di una nuova maniera, di una maniera renouvelata e noi speriamo che il risultato di questo dialogo. Il ne me resta più che a nous souhaiter di buoni travi e di passare la parola a Julien Vaché, il vice-presidente della Commissione dell'Ageno di Recherche nel controllo constitucionale. Io ti ringrazio. Grazie. 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 Grazie, che wantachbar e un po' difficile d'intervenire vers la fin parce que beaucoup de choses ont été dites beaucoup de belles choses ont été dites alors je ne vais pas répéter tous les remerciements qui ont été faits parce que je m'y associe pleinement je voudrais simplement en appuyer quelques-uns il m'importe en effet tout d'abord de souligner le travail remarquable de Giuliano Serges qui a supporté avec force vraiment et endurance c'est le mot, il en a fallu de l'endurance ce beau projet de colloque depuis maintenant presque deux ans ou même presque trois ans je voudrais aussi rendre hommage à nos prédécesseurs à la présidence et la vice-présidence de la commission de la jeune recherche constitutionnelle Emilien Quinnard et Julien Padovani qui ont très largement contribué à la mise en place de cet événement il y a déjà quelques années un événement qui devait se tenir l'année dernière et conclure leur beau mandat donc merci à vous, vous avez été aussi qui est là pour initier ce beau projet je voudrais ensuite faire deux brèves observations l'une sur l'objet de ce colloque et l'autre sur la commission quand même les dix ans je vais quand même dire quelques petits mots je suis tout d'abord heureux de constater que l'occasion qui nous est donnée d'échanger sur la question de l'unité transfrontalière du droit constitutionnel est aussi celle de constater l'unité transfrontalière des structures associatives de la doctrine constitutionnelle on connaissait le groupe de Pise la VDC mais à côté de la commission française de la jeune recherche constitutionnelle et bien on a vu naître sur ses traces son homologue italienne le comité italien des jeunes constitutionnalistes il est aussi intéressant de souligner que dans le cadre du sujet d'études proposées et bien c'est la jeune recherche c'est la jeune recherche qui demande aux doctrines françaises italiennes un peu plus expérimentées plus expérimentées une rétrospection sur leur dialogue passé puis une introspection sur les dialogues présents afin de pouvoir envisager ce que pourrait être d'une manière un peu prospective l'avenir du dialogue des doctrines le dynamisme de ce dialogue nécessite aussi que la future doctrine aujourd'hui jeune recherche développe dès sa formation une aptitude à la recherche en droit comparé et le goût des échanges et de l'ouverture au système juridique étranger c'est en ce sens que ce colloque constitue une parfaite illustration de l'esprit des activités de la commission française de la jeune recherche en droit constitutionnel qui au-delà des manifestations scientifiques en droit constitutionnel cherche à favoriser des échanges interdisciplinaires et développer les contacts internationaux entre jeunes chercheurs la présence au sein de notre commission de doctorant en co-tutelle de thèse comme tu l'as été et tu l'es toujours Julano avec des universités étrangères où la coopération en matière de rencontres scientifiques a en ce sens largement démontré la très grande richesse qu'apportent les échanges entre chercheurs de différents pays dans cette dynamique nous formulons Gohar et moi-même le souhait que la commission de la jeune recherche constitutionnelle débute la nouvelle décennie de sa vie avec l'ambition de continuer à promouvoir l'esprit d'ouverture de la jeune recherche au droit comparé et que de solides liens de coopération s'établissent avec le comité italien des jeunes constitutionnalistes je sais qu'il y aura après un petit cocktail donc quoi de mieux qu'un petit cocktail pour justement renforcer ces petits liens mais avant ce cocktail il me semble qu'il va falloir attendre que d'autres orateurs passent à la chaire donc je laisse tout de suite la parole Merci beaucoup Julien je dois dire tandis que tu parlais je me suis dit que comme j'ai un peu coupé les remerciements que j'avais écrits je n'ai peut-être pas assez souligné tout à l'heure à quel point j'ai été soutenu par les anciens présidents et vice-présidents et les actuels de la commission de la recherche et je dois dire à chaque fois que j'ai eu un problème un souci même lorsqu'il s'agissait vraiment de faire des choses très simples genre lire un mail écrit dans mon mauvais français pour transformer dans un mail écrit dans un bon français ils ont toujours été disponibles autant les anciens qu'ils qu'ils actuels et je dois dire que je suis vraiment très content que les anciens sont ici aujourd'hui puisqu'on avait quand même bien travaillé sur ce colloque et après on a dû l'annuler à quelques jours de sa tenue et je trouve que si vous n'étiez pas là ça nous devrait manquer quelque chose donc merci à tous les quatre finalement et vu que je fais des remerciements internes à la commission je tiens aussi à remercier Serentine qui a toujours été là quand j'ai eu des problèmes quand on a dû écrire les projets de recherche en français pour obtenir les financements de l'université franco-italienne elle a fait 4h du matin avec moi donc je pense qu'il faut quand même la remercier comme il faut et bah oui maintenant il faut changer encore les intervenants et j'appelle donc le centre de recherche Michel Limano et le professeur Carlo Colapietro et le professeur Desrosiers qui non seulement il est professeur mais aussi il est fondateur de la commission de la recherche donc on est bien content de l'écouter aujourd'hui approfitto anche scusate non l'ho fatto prima per ringraziare tutti i collaboratori che hanno fatto le registrazioni vi controllano i badge ci significano il tavolo a ogni passaggio e via dicendo ovviamente da solo non ci sei riuscito quindi grazie davvero e a questo punto comincerei seguendo il criterio di ospitalità seguito prima dal professor Di Manu di colloca che riuscì riuscì tutti qui in questo bel amphithéatre. C'est d'abord un grande honneur per il centro di ricerca che io dirige di aver stato associato a questa manifestazione e io voglio, ovviamente, di spiegare i miei ringrazioni più chaleurei ai organizzatori che portano questo progetto durante tanto, come è stato detto, e che vedono finalmente le loro tennacità e il loro entusiasmo oggi, recompensate con la tenue, in presentazione, di questo colloquio e io dirò una gratitudine particolare a Giuliano Serges chevile, ovaria di questo colloquio e anche a Giuliano Vaché che tutti due hanno fatto parte del loro progetto nel momento in cui erano in loro, già da molti anni e ringrazio di aver pensato immediatamente a associare il centro del derecho e politica comparare Gianclaude Escaraz a questa manifestazione e, bien entendu, queste ringrazioni molto sincere vengono di tutta la delegazione toulonnaise qui è presente Maris Baudrez che è qui è là, ovviamente, Caterina Sèverino che si associa a moi per queste ringrazioni. C'è anche un grande honore per la facoltà di Dio dell'Università di Rome 3 che ci accuegono oggi e che ho l'ho l'honneur di essere invitata il y a maintenant 3 anni per tenere una conferenza sull'AQPC non pas il 10e anniversario della misa in place dell'AQPC ma il 10e anniversario della riforme constitutionale di 2008 che è venuto in 2018 su l'invitation di Giovanni Serges e di prof. Marco Rotolo e c'è stato per me un gran plaisir e un gran plaisir di revoir oggi nel cadre di questa manifestazione allora c'è ensuite un vrai bonheur che di particolare a questo colloquio che porta su una thymazione che è molto chata al centro di Dio di Comparare Jean-Claude Escaraz e io dirai che il dialogo tra le dottine constitutionale francese e italiana fa parte dell'ADN del centro di Dio e di Politi Comparare Jean-Claude Escaraz e io dirai anche di vedere in questo colloquio una forma d'hommage al fondatore del CDPC il doyente Jean-Claude Escaraz che in l'anno 2021 marca precisamente il 25e anniversario di sua disparition il doyente Jean-Claude Escaraz è stato in effetti un pioniere di questo dialogo doctrinal franco-italiano tutta la carriera académica ha stato avuto alla promocione di questo dialogo dopo la these di doctorato sulle esperienze belge e italiana d'unità di juridizione pubblica in 1972 jusqu'à son décimo il 27 avril 1996 en 1984 le doyen Jean-Claude Escaraz crée à la faculté de droit de Toulon un centre de recherche baptisé le centre de droit et de politique comparé dont le but premier est de faire mieux connaître en France le droit constitutionnel le droit public italien et plus spécialement le droit constitutionnel italien alors pour porter cette ambition le doyen Jean-Claude Escaraz au départ s'est entouré de deux autres chercheurs Maris Baudrez bien sûr et Robert Cavana et le CDPC a commencé à œuvrer avec peu de moyens mais il a très vite pris son envol il a très vite pris son envol et dès 1984 le CDPC participe à la création sous l'impulsion du doyen Louis Favoreux avec le groupe d'études et de recherche sur la justice constitutionnelle et l'institut d'études juridiques ibériques et ibéro-américaines de Pau à la création de la table ronde internationale de justice constitutionnelle d'Aix-en-Provence cette table ronde a été conçue comme le rendez-vous annuel du dialogue des doctrines constitutionnelles et 37 rendez-vous de ce type ont déjà eu lieu n'est-ce pas mon cher Xavier en 1996 lorsque le doyen Escaraz disparaît le CDPC compte 10 enseignants chercheurs et plusieurs doctorants tout est alors en place pour que les études de droit comparé franco-italien engagés et développés sous l'impulsion du doyen Escaraz se perpétuent et s'amplifient Marise Baudrez va alors reprendre le flambeau avec beaucoup de courage et de ténacité dans un contexte universitaire toulonais pas toujours simple et grâce à elle le CDPC qui porte désormais le nom de son fondateur va connaître une croissance formidable et va voir sa spécialité acquise dans le domaine du droit comparé franco-italien reconnu au plus haut niveau scientifique puisque le CDPC va devenir une composante d'une unité mixte de recherche du CNRS d'abord avec le groupe d'études et de recherche sur la justice constitutionnelle d'Aix-en-Provence puis avec le centre d'études et de recherche internationale et communautaire d'Aix-en-Provence et puis avec l'institut de Pau aujourd'hui cette UMR du CNRS s'appelle l'UMR droit international comparé et européen et c'est l'une des plus grosses entités de ce type dans le domaine juridique et aujourd'hui au sein de cette UMR 10 le CDPC compte 30 enseignants chercheurs titulaires et une quarantaine de doctorants aujourd'hui le CDPC poursuit donc l'oeuvre de son fondateur et s'efforce toujours d'être un vecteur et un facilitateur du dialogue entre les doctrines juridiques françaises et italiennes même si le champ de ses recherches en droit comparé s'est élargi à d'autres territoires euro-méditerranéens pour favoriser la circulation des idées et des travaux en droit comparé franco-italien le CDPC a formé et ou a recruté des spécialistes qui sont devenus en quelque sorte des agents de ce dialogue doctrinal franco-italien il a créé également des supports qui véhiculent ce dialogue et il s'est installé à Toulon dans un lieu propice à ce dialogue et je voudrais dire quelques mots rapidement sur chacun de ces moyens de ce dialogue doctrinal franco-italien sur lequel le CDPC s'appuie s'agissant d'abord de ces agents du dialogue doctrinal le CDPC peut compter aujourd'hui sur 14 enseignants chercheurs titulaires en poste à Toulon qui travaillent en droit italien et en droit comparé franco-italien et qui sont devenus des spécialistes reconnus ce qui représente donc la moitié de ces membres ces 14 enseignants chercheurs ça représente 7 professeurs ordinaires et 7 maîtres de conférence et associats sur ces 14 universitaires toulonnais 12 ont été formés au CDPC et par le CDPC mais le CDPC a formé d'autres spécialistes du droit comparé franco-italien qui ont été recrutés dans d'autres universités françaises et qui sont affiliés aujourd'hui à d'autres centres de recherche le CDPC a ainsi su essemer 6 mètres de conférences qui sont passés par Toulon sont désormais en poste à Saint-Étienne à Lyon à Bordeaux et à Avignon tous ces spécialistes du droit comparé franco-italien sont essentiellement des constitutionnalistes 15 au total mais on compte aussi des 4 privatistes et un historien du droit à ces agents titulaires du dialogue doctrinal franco-italien il faut également ajouter bien sûr les docteurs en droit dont certains sont qualifiés aux fonctions de maître de conférence et les doctorants qui ont préparé leur thèse sous l'égide du CDPC dans une approche de droit comparé franco-italien et Giuliano Serges et Julien Vaché font bien sûr partie de cette cohorte des forces vives qui sont l'avenir de la continuité du dialogue entre les doctrines françaises et italiennes s'agissant des supports du dialogue doctrinal franco-italien le CDPC a voulu favoriser le dialogue entre les deux doctrines en créant deux revues internes la première a été fondée par le doyen Jean-Claude Descaras en 1987 ce sont les cahiers du CDPC il s'agit d'une revue périodique de notre laboratoire qui publie essentiellement des études de droit comparé spécialement de droit comparé franco-italien on y trouve également des traductions en français d'articles d'auteurs réputés de la doctrine juridique italienne toujours dans le but de faire mieux connaître les idées doctrinales qui ont cours en Italie aujourd'hui le numéro 14 des cahiers du CDPC est sous presse et le numéro 15 paraîtra au cours du premier trimestre de l'année 2022 la seconde revue qui s'appelle la lettre d'Italie a été créée en 2012 et c'est d'abord une revue numérique qui est consultable et téléchargeable gratuitement en ligne et elle existe aussi sous format papier cette lettre d'Italie est destinée à donner aux lecteurs français et francophones une information sur l'actualité politique et juridique en Italie elle comporte également une rubrique qui s'appelle la voix d'Italie et qui consiste à donner la parole à un auteur italien sur un problème qui touche le droit italien cette revue est disponible en ligne je l'ai dit et parce qu'elle est disponible en ligne on peut mesurer précisément le lectorat qu'elle représente et c'est plus de 50 000 lecteurs distincts qui suivent cette lettre d'Italie qui est une revue semestrielle s'agissant enfin du lieu où se développe ce dialogue doctrinal franco-italien je veux parler des locaux du CDPC à l'université de Toulon dans ces locaux le CDPC a pu réunir le plus grand fonds documentaire en droit italien de France ce fonds documentaire qui est ouvert à tous les chercheurs dispose ainsi plus de 5000 ouvrages en droit italien des encyclopédies juridiques des manuels des monographies également est abonné à 22 périodiques italiens c'est donc une véritable mine documentaire pour tous les chercheurs qui s'intéressent au droit italien et je peux même dire que les collègues italiens qui nous visitent à Toulon ont plaisir à venir se mettre à jour dans notre bibliothèque parce que tout est accessible et pour eux c'est tout à fait agréable d'avoir accès à toutes ces sources Toulon est devenu donc un lieu d'échange privilégié avec la doctrine italienne et nous recevons chaque année des universitaires et des chercheurs italiens qui viennent à Toulon pour tenir des conférences ou pour leur recherche et la plupart des soutenances de thèses de doctorat se déroulent aussi devant un jury qui comprend toujours au moins un enseignant un universitaire italien et ce bien sûr pour favoriser toujours ce dialogue franco-italien et avec la jeune recherche bref vous le voyez le CDPC est fier d'apporter sa pierre au dialogue entre les doctrines constitutionnelles françaises et italiennes et je me dois donc de féliciter les organisateurs d'avoir retenu ce thème pour le colloque qui nous réunit aujourd'hui un dernier mot je voudrais les féliciter ces organisateurs pour l'intituler retenu pour ce colloque ils ont quasiment inventé un nouveau concept le dialogue des doctrines ce concept fait inévitablement écho à un autre concept qui a rencontré beaucoup de succès en France mais qui est aussi très controversé je veux parler bien sûr du dialogue des juges ce fameux dialogue des juges est sans doute une expression abusive des juges pour décrire ce phénomène qui n'est pas à proprement parler un véritable dialogue en revanche parler du dialogue des doctrines relève presque du pléonasme tant la doctrine juridique doit évidemment être tournée vers le dialogue la disputatio universitaire et depuis le moyen âge la méthode propre à faire progresser la connaissance dans toutes les disciplines scientifiques ce colloque montrera ainsi sans doute que ce dialogue est parfois déséquilibré selon le secteur du droit constitutionnel concerné l'expérience et l'état de la réflexion de l'une pouvant alors apporter beaucoup plus à l'autre je crois qu'il faut aussi louer la prudence des organisateurs du colloque qui ont pris la précaution de mettre un point d'interrogation à ce qui est présenté comme la finalité de ce dialogue doctrinal c'est-à-dire l'unité transfrontalière du droit constitutionnel je disais à l'instant qu'avec le dialogue des doctrines on frisait le pléonasme et bien je me demande si avec l'unité transfrontalière du droit constitutionnel on ne manie pas un oxymore le droit constitutionnel restant pour faire court le droit de l'état il est difficile d'imaginer son unité totale transcendant les frontières des états en tout cas nous pouvons nous entendre sur le fait que le titre du colloque trace un chemin un chemin qu'il nous faut parcourir pour atteindre cette unité transfrontalière du droit constitutionnel qui apparaît alors un peu comme un idéal ou pour reprendre la belle expression de Jacques Brel dans sa chanson la quête comme une inaccessible étoile l'intérêt de ce colloque tient donc à ce qui nous sera qui nous fera assurément progresser sur ce chemin vers cette quête constitutionnelle et pour cela il rencontrera n'en pas douter un beau succès un grand merci à vous tous merci à vous merci à vous professore de vous dire que comme vous pouvez imaginer je avec tous les aspects organisatifs non j'ai avuto le temps de préparer le mio intervento de demain comme j'aurais voulu pensais de me expliquer la structure du programme et le titre mais je veux dire que le professeur Di Manou a dit tout no a parte gli scherzi ha perfettamente colto il punto ovviamente l'espressione dialogo delle dottrine é ispirata a quella dialogo delle corti dialogo dei giudici e ovviamente parlare di unità trasfrontaliera del diritto costituzionale é una provocazione ma se non si provoca non si riescono a ottenere le risposte quindi é per questo che abbiamo deciso di farla questa provocazione devo tra l'altro dire che ho riscontrato con mano quello che diceva il professor Di Manou sul fatto che il Sede Pesse é un centro in cui gli italiani vanno volentieri a studiare cosa che per me é stato un po' uno shock nel senso che io ho fatto un dottorato in cotutela quindi ho vissuto più di un anno a Tolone e speravo di immergermi in un ambiente profondamente francese e invece al Sede Pesse c'era un continuo via vai di italiani che venivano a studiare anche se poi insomma ovviamente mi ha fatto piacere mi sono trovato molto bene ci ho detto non voglio togliere tempo per queste sciocchezze e quindi passo all'altro centro di ricerca e quindi al professor Colapietro allora grazie io non ruberò molto tempo do sicuramente il benvenuto anzitutto il saluto agli amici e colleghi francesi che sono voluti venire a festeggiare i dieci anni dell'associazione appunto qui in Italia ospiti di Roma 3 e ne siamo onorati e anche la bellissima occasione che l'associazione dei giovani costituzionalisti italiani che come ho ben ricordato Maria Elisa D'Amico la presidente dell'associazione del gruppo di Pisa con una grossa lungiviranza direi del direttivo in particolare del presidente abbiamo fatto nascere all'interno e mi fa piacere ricordare che è presieduta proprio da Giuliano Serges diciamo Giuliano adesso questo dipende come come devo chiamarlo insomma in questo senso quindi io non approfitterò di questo momento per ritardare troppo anche perché domani avrò l'occasione di presiedere la sessione del pomeriggio e due parole sul merito le ho preparate diciamo per quel momento adesso mi limito semplicemente a portare il saluto appunto del centro di ricerca interdipartimentale di studi politico e costituzionali che ho l'onore di dirigere e siamo ovviamente molto fieri di uno che si sia potuto contribuire diciamo in qualche modo a questa iniziativa veramente prestigiosa credo che anzi una delle prime poi che riprendiamo appunto dopo tutta questa brutta parentesi e di questo appunto sono molto grato diciamo a Giuliano Sergius e a tutto il gruppo che ha lavorato perché il centro di ricerca appunto che dirigo ha sempre dalla sua nascita oramai siamo al ventennale il prossimo anno ha sempre favorito i giovani in tutti i modi borse di studio dottorato ha cercato sempre di lavorare un po' in questo senso mi ci ritrovo in questa doppia veste diciamo di vicepresidente del gruppo di Pisa che si è mosso sempre in questa direzione di direttore del CRISPR perché gli obiettivi sono stati sempre gli stessi e credo che abbiamo fatto tanto bene insomma ricordo per tutti diciamo la bellissima collana del CRISPR in cui ci sono appunto degli studi monografici che peraltro insomma hanno avuto tanta fortuna per i giovani che hanno scritto hanno diciamo hanno avuto il piacere di pubblicare quindi in questo senso mi fa particolarmente piacere che in queste associazioni giovani siano qui a Roma 3 che il CRISPR possa aver dato convintamente il suo contributo e in questo ecco ringrazio veramente Giuliano che è sparito dai radar diciamo da una quindicina di giorni adesso finalmente domenica tornerà un uomo libero perché effettivamente diciamo c'è stato un livello organizzativo un qualcosa chiudo solo con una battuta mentre appunto venivo dal rettorato anzi mi scuso perché c'era una riunione del CDA qualcuno vedendo tutti questi francesi che giravano mi hanno chiesto che cos'è io me la sono rivenduta come un bilaterale Italia-Francia in vista del G20 che tenevamo qui a Roma 3 perché mi sembrava il caso visto che appunto ti ho organizzato dal professor Sergio seguito in questo sappi che tu stai organizzando un evento collegato diciamo al G20 con tutto ciò che ne consegue comunque detto questo con questa battuta finale ringrazio anche tutti i giudici della Corte Costituzionale presenti e buon lavoro a tutti quanti noi per domani insomma ecco grazie 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 a professor Colapietro che a proposito di G20 mi dà lo spunto per dare un'indicazione organizzativa importante ovviamente nei prossimi due giorni ci saranno diverse restrizioni legate appunto al G20 il problema maggiore riguarderà il quartiere dell'Eur il quartiere dell'Eur addirittura le tre fermate dell'Eur quindi le fermate sostanzialmente dopo Marconi perché di Roma non saranno più servite le fermate della metro ci saranno delle navette sostitutive ci si potrà muovere in macchina ma ovviamente alcune strade saranno chiuse e ovviamente sono annunciati comunque forti ritardi sulla circolazione perché se un capo di Stato deve attraversare la strada la strada viene bloccata per un tempo come dire importante questo ovviamente vale soprattutto per la giornata di sabato perché è sabato che comincia il 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 G20 ma già da da domani dovrebbero cominciare a essere le restrizioni le autorità competenti suggeriscono di non muoversi troppo tardi da casa nel nel senso che in realtà la maggior parte delle chiusure avviene anzi la totalità delle chiusure avviene dopo le 8 e poi durante la la giornata man mano si aggiungono quindi prima si esce di casa meno si rischia il di di incontrare problemi in questo senso per quanto riguarda la giornata alla Corte Costituzionale ho sentito oggi stesso per un ultimo confronto il cerimoniale e apparentemente il perimetro diciamo intorno alla Corte Costituzionale dovrebbe essere chiuso solamente a partire dalle 12 per cui noi avremo il tempo di entrare una volta che siamo dentro poi uscire uscire beh diciamo che restare chiusi a Palazzo della Consulta ci sono punizioni peggiori ecco mettiamola così l'importante è che voi abbiate sempre il badge perché alle autorità competenti è stato detto in caso appunto di chiusure dell'ultimo momento eccetera che chi ha questo badge può passare poi hanno comunque la lista degli iscritti ma il badge ovviamente facilita e a questo punto c'era un'altra cosa che volevo dire e chiedo scusa i due centri di ricerca hanno un nome quasi non dico uguale ma molto simile perché dietro la sigla si nasconde centro di diritto e politica comparati mentre il CRISPR è il centro di ricerca di studi di politica e legislazione comparata per cui è un nome che si assomiglia e d'altronde i due direttori sanno che io caldeggio da molto tempo una congiunzione tra i due centri e sono contento che questo convegno possa essere una prima occasione insomma di una cosa organizzata insieme a questo punto come dire ciliegina sulla torta prima ho detto che i mediocri limitano i geni copiano i fuori classe creano e quindi noi abbiamo qui il fondatore della commissione della ricerca il nostro policlasse al quale cedo molto volentieri la parola grazie Giuliano questo non è farmi un regalo prima di tutto perché devo parlare per ultimo prima dell'aperitivo e dopo trattarmi così di genio no anch'io ho copiato anch'io ho copiato quando ormai 11 anni fa e precisamente il 18 novembre 2010 ho fondato in una riunione costitutiva la commissione la commissione della jeune recherche costituzionale prima di tutto è un grandissimo piacere e anche un altissimo onore poter esprimervi oggi davanti a voi 10 anni 11 anni dopo ormai sono diventato un vecchio perché come avete capito la commissione jeune recherche e animata e la riunione dei giovani ricercatori cioè dei dottorandi e dottori che ancora non hanno una posizione stabilita in un'università essendo diventato ordinario prima di tutto all'università di Rouen e poi all'università di Lille sono considerato come un vecchio però ho un po' di memoria sono vecchio però ancora non sono senile e quindi mi ricordo ciò che è avvenuto dieci anni fa se la commissione fu fondata il 18 novembre c'è stato tutto un lavoro di anticipo e di argomentazione per convincere i vecchi dell'epoca che ancora sono vecchi questo lo dico volontieri in italiano perché così non viene riportato a quelli susmenzionati della dottrina francese che hanno considerato questa proposta che abbiamo fatto perché eravamo in due all'epoca con un'altra dottoranda e ormai collega Émilie de Batts per fondare questa riunione di giovani ricercatori eravamo tutti e due dottorani dell'università di Parigi 1 e quello che aiutava è che il presidente dell'associazione dell'epoca il professor Bertrand Mathieu era anche lui professore all'università di Parigi 1 e direttore di tesi della mia collega Émilie de Batts però quando abbiamo iniziato a proporre questa iniziativa di fare una specie di federazione quasi non abbiamo detto la parola associazione perché era quasi un tabù forse durante l'aperitivo vi spiego perché però una federazione una struttura di giovani ricercatori in diritto costituzionale ci hanno detto ma una bella iniziativa ma lasciateci pensare un attimo e ci è voluto quasi un anno per riuscire a convincerli dell'opportunità di creare questo comitato questa commissione che fa parte integrativa dell'associazione di diritto costituzionale questo era il primo criterio sapere se si faceva un'associazione individuale autonoma o se eravamo integrati nell'associazione di diritto costituzionale scegliere l'associazione autonoma ci dava una più grande libertà ovviamente però sia per ragione politiche diplomatiche sono quelle che vi spiegherò all'aperitivo che anche per ragioni strutturali ero io personalmente convinto che fare parte integrante dell'associazione di diritto costituzionale era meglio perché prima di tutto questo significava che il nostro scopo non era di fare concorrenza all'associazione di diritto costituzionale ma al contrario di incorporarsi nella ricerca costituzionale che l'associazione francese di diritto costituzionale è la società scientifica la société savante come diciamo in francese la più stabilita in questo ambito ed era anche il modo questo era il mio primo obiettivo di federare quelli che saranno la dottrina di domani chi insegnerà chi scriverà chi parlerà del diritto costituzionale domani sono i dottorandi di oggi e per questo il posto dove trovarli era l'associazione e per cui rassicurandoli così dicendo no no noi vogliamo fare parte integrativa della vostra associazione vogliamo essere sotto la responsabilità dell'associazione per noi era comodo perché tutto quello che diceva la commissione era a nome dell'associazione quindi non dovevamo indossare la responsabilità e eravamo sotto la cautela di questa associazione per loro era comodo perché dicevano la controlliamo e strada facendo c'è stata una grandissima autonomia della commissione che credo sia ancora confermata oggi parlo sotto il controllo dei presidenti attuali io parlo sul controllo dei presidenti attuali presidenti e vice presidenti io credo che la commissione ha sempre una grande autonomia e un rapport di tre grande confianza con il bureau e la presidenza dell'associazione provano che è la più menata di questi diversi travaux ed è addirittura questo che mi rende il più felice perché contrariamente a Frankenstein sono felice che la creatura abbia sfuggito al creatore perché è questo la miglior prova che l'iniziativa dopo del tutto non era così stupida quando abbiamo fondato questa associazione avevo in mente due eventi principali che potevano valutare la ricerca e la giovane ricerca in diritto costituzionale ai suoi doppi livelli al livello della dottrina del lavoro di dottrina dei lavori che questa giovane ricerca può produrre e così fu creata la journée de la jeune recherche costituzionale che permette di valutare questi lavori e di premiare il miglior lavoro che viene presentato ma anche permettere alla giovane ricerca di organizzare delle giornate come quella che organizza il nostro caro Giuliano e anch'io lo ringrazio tantissimo per tutto questo lavoro sia di fondo che propriamente organizzativo che è stato fatto e per questo ho detto che ho proposto che la commission organizzi una seconda giornata ogni anno dove questa volta è la dottrina implementata che parla però con l'organizzazione di giovani ricercatori che fanno il programma che propongono il tema e che elaborano tutto l'argomentario scientifico di questa giornata e sono molto contento che queste due giornate siano ancora vigenti che ci sia oggi questa giornata Roma 2020 anche con un anno di ritardo ma anche questo dimostra tutta la vitalità e l'importanza di questo evento e che pure la giornata della della ricerca en droit constitucionale sia un'iniziativa ancora vigente oggi passo su tutti gli altri eventi che sono stati fatti dalla commission sia l'elenco dei giovani ricercatori che sono andato a consultare il sito della commission che è mantenuto con un'attualità massima perché ho visto che la data di freschezza la data dell'ultimo dell'ultima attualizzazione è del giugno 2021 quindi c'è stato veramente un lavoro continuo di fatto con più di 80 pagine dove sono recenziati tutti i giovani tutti i dottorandi che fanno una tesi sul diritto costituzionale e i loro le loro le loro ricerche al finire questa giornata Roma 2020 Giuliano ha dato varie ragioni per farla qua a Roma ce ne sono ancora tante altre non voglio solo parlare del del nostro piacere a tutti di ritrovarci a Roma del nostro legame che abbiamo sia con la commission che con l'Italia si potrebbe anche evocare il fatto che l'Italia quest'anno avrebbe dovuto essere nel 2020 però quest'anno ha vinto l'Euro non contro la Francia per questo siamo venuti però l'ha vinto lo stesso e questa gelosia eventuale è stata corretta perché noi abbiamo vinto la Nations League e ovviamente batteremo l'Italia in finale della prossima Coppa del Mondo un po' di prospettiva proseguendo sulla la prospettiva perché non voglio entrare nei dettagli del programma lo farò domani quando farò una comunicazione sulla la democrazia elettronica o digitale proseguendo sulle prospettive sono più che contento di vedere che questa iniziativa francese in diritto costituzionale è stata riprodotta in Italia nel gruppo di Pisa e sono molto contento cara collega che lei ha accolto con lo stesso entusiasmo che il professore Bertone Mathieu dieci anni fa questa iniziativa di Giuliano di fondare questo comitato qua in Italia e quindi questo infatti permette ora di fare a livello di questi giovani ricercatori quello che si fa già a livello dei ricercatori confermati non chiamiamoli vecchi confermati di collaborare a livello internazionale con un dialogo delle dottrine con un dialogo dei ricercatori e degli intercambi franco-italiani e chissà domani anche con altri paesi le altre prospectivo e io profite di la presenza di la presidenza di la FDC e al nome di il vice-presidente e e il ha di statuti dell'associazione che di aver inscrita formellamente in questi statuti. Io penso che sarebbe una buona cosa, e di favorire ancora più la valorizzazione dei lavori dei jeunes ricercatori, in li associando davantage a gli eventi che organizano l'associazione, per esempio la giornata annua, o le giornate centralizzate, non le della commission, ma le giornate centralizzate dell'associazione. C'è già il caso, ma questo potrebbe essere rinforzato ancora. Credo bene che la giornata, anche da cui sono un vecchio, mi ha sempre animato nei miei lavori, e quindi la giornata di oggi potrà ancora compterciare su me domani. Grazie mille. Grazie a lei, professore. Mentre parlava, non so quale strano collegamento ho fatto, ma mi è venuta in mente la frase che il sindaco di Parigi disse quando Parigi si gemellò con Roma. Voi sapete che Roma è gemellata con una sola città, Parigi, e Parigi è gemellata con una sola città, cioè Roma. E il sindaco, allora il sindaco di Parigi, di cui mi sfugge il nome, disse però una frase storica che è scritta anche in qualche lapide a Parigi, solo Parigi è degna di Roma, solo Roma è degna di Parigi. Allora io mi stavo dicendo che forse solo Roma era degna di ospitare il primo evento internazionale della commissione della giornata di ricerca costituzionale, ma anche solo la commissione della ricerca costituzionale era degna di venire, come dire, a celebrare i suoi dieci anni qui a Roma. Ecco, con questa frase un po' retorica io direi che possiamo chiudere i saluti e a questo punto ci spostiamo tutti per l'aperitivo, poi lo ridico in francese perché le informazioni importanti vanno dette in due lingue chiaramente, per... Quelle vengono comunque capite. Nell'antistante T-Bar, vi do anche l'indirizzo, ma comunque si tratta di attraversare la strada molto banalmente, via Ossien 682A. Allora, per l'aperitivo, c'è al T-Bar, esattamente in face, il faut juste traverser la rue, nella via Ossien 682A. D'accord, e ben, merci a tutti e on se retrouve a l'aperitivo.